Petrillo Luciano, 59 anni. Io arrivo da Bologna in provincia, Castelse e Pietroterme. Ho fatto degli impianti dentali, cioè degli impianti sia sopra che sotto. Inizialmente si pensava meno, poi alla fine ho fatto 6-6-12 impianti. 12 impianti, quindi un lavoro abbastanza importante. Io da una vita ho dei problemi con i denti, sinceramente. Quindi ho iniziato a guardare anche all'estero. Così per caso, vedendo un po' la pubblicità di Palmas, sia nei cartellini di pubblicità, iniziando a guardare i siti internet, ho iniziato a guardare e a vedere dove andare esattamente a risolvere questi problemi. La risposta è stata il preventivo, con l'intervento anche del dottor Palmas con un video suo. E quindi da lì ho iniziato un attimino, un pochettino più, a convincermi di venire, penso nella sede principale che era qui a Chisinau, per quanto riguarda il dottor Palmas. Passata questa cosa qui con i provvisori, ho iniziato subito ad avere dei benefici, benefici a livello di masticazione, a livello di qualsiasi cosa. Sì, il cambiamento è stato immediato, sicuramente, non ci sono dei dubbi. Avendo fatto i definitivi, secondo me, anche qui, è una situazione migliorata ancora di più, perché vedo che ho scelto due situazioni. Un'arcata superiore un po' più bella per investire un attimino più sui miei denti e l'arcata inferiore come era stato previsto dalla scelta del preventivo iniziale. Però è importante avere, forse anche molto più importante per me, la masticazione e tutto quello che riguarda, probabilmente, anche il mangiare e tutto questo che riguarda queste cose qui, ecco. Il mio sorriso? Così, il mio sorriso adesso. Così, il mio sorriso.